Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi è lunedì 16 marzo, queste date ce le ricorderemo molto bene e per molto tempo. Questo è il primo video in questa quarantena che sta facendo impazzire già tantissime persone. All'alba quasi di una settimana chiusa in casa sentiamo sicuramente il bisogno di andare fuori, di fare una camminata, cose che prima davamo per scontate e ora non possiamo più fare. Quindi questo ci sta scombussolando tantissimo. Oggi io sono qui per dirvi che ci si può fare l'abitudine. Non sono qui ovviamente per dire, per darvi verità assolute, per trovarvi delle soluzioni che vi possano garantire al 100% di stare sereni, però vi posso dire che è molto abituata a stare in casa io e la mia famiglia comunque, perché sono entrambi pensionati, i miei genitori già da qualche anno, mia mamma poi è una casalinga, quindi sicuramente non ha una vita tantissimo attiva all'esterno di casa. Io pure, perché negli ultimi anni di università mi sono comunque recata poco spesso alle lezioni, non ho legato con tanti amici, io non faccio aperitivi, non vado più neanche a ballare, questo per esempio mi manca tantissimo. Questo non vuol dire che sia una cosa buona, però sono molto più preparata di voi sicuramente a un periodo di quarantena in casa. Le mie giornate prima di iniziare il tirocinio a dicembre scorso nel 2019 erano comunque mattinata in casa, mi alzavo, colazione con calma, alzavo verso le otto e mezza, cosa che sto facendo anche adesso. Social, quindi preparavo, mettevo tutto quanto, facevo le foto, creavo contenuti e poi stavo un'oretta lì a gestire comunque, rispondere ai messaggi e tutto quanto. Poi a distanza di un'oretta dalla colazione iniziavo il mio allenamento, cosa che ovviamente non avveniva tutti i giorni ma 3-4 volte a settimana, quindi gli altri giorni magari mi mettevo al pc o facevo delle pulizie, creavo contenuti per youtube e cose del genere, quindi comunque la mattinata io la passavo così. Il pomeriggio solitamente andavo al bar dal mio ragazzo, quindi comunque uscivo di casa, stavo sempre in casa, però ecco una passeggiatina di 30 minuti per arrivare al bar e poi un'ora e mezza, due al bar con Brian. Poi dopo casa e cena, casa al mio ragazzo oppure casa mia, quindi comunque quello che vi voglio dire è che io sono stata molto, è sempre stato molto semplice per me stare in casa perché avevo tutte le mie cosine da fare. Il weekend invece ecco si usciva un pochino di più, col mio ragazzo si organizzava con gli amici. Quello che vi voglio dire è che ovviamente non è che si possa trovare qualcosa da fare in casa H24, quindi magari direte ma no, però dormire fa passare le ore, nel senso non alzatevi troppo presto al mattino, se eravate abituati ad alzarvi alle 6 o alle 7 fate anche 8 e mezza, 9. Pisolino pomeridiano, magari per molti di voi è una bestemmia il pisolino pomeridiano, io l'ho sempre fatto, magari non tutte tutte le volte e comunque non dormite troppo se no poi la sera non avete più sonno, dato che comunque si sta tanto a casa ed energie non si spreca più di tanto. Comunque il pisolino pomeridiano vi fa passare insomma un'oretta anche ve la fa andare avanti. Cosa che stanno tutti adottando è guardare film, Netflix, Amazon Prime. Cos'altro? Pulite casa, io comunque mi ci metto un po', magari faccio i bagni un giorno, la cucina un altro, poi comunque si sporcano sempre abbastanza in fretta, quindi c'è sempre qualcosa da pulire, poi ovviamente adesso che stiamo molto più in casa possiamo darci la pulizia di cose che non consideriamo molto spesso, tipo le tende, mamma mia ha detto dobbiamo lavare le tende, quindi laveremo le tende. Fare dei giochi di società sicuramente potrebbe dare una mano anche per passare il tempo. Poi ovviamente non siamo tutti dei nerd, io passo tanto tempo al pc, videogiochi e a parte comunque guardare delle cose oppure editare video, però io sono sempre stata abbastanza appassionata di videogiochi sin da quando ero piccola e tutto pc, non playstation, però per esempio fare dei giochi online con i propri amici può sicuramente dare passare il tempo. Io in queste sere, tutte le sere, dalle 9 fino a mezzanotte, sto seduta sulla sedia, cerco di alzarmi qualche volta comunque perché sennò poi il sedere fa male, anche la schiena fa un po' male, quindi non state comunque troppo seduti. E fa passare il tempo perché per 3-4 ore sto lì con i miei amici, parliamo perché siamo su Skype, una cosa tipo Skype, si chiama Discord, se lo volete scaricare e parlare lì con i vostri amici secondo me, sono delle ottime cose per passarsi il tempo e ci sono tantissimi giochini online che potete fare tutti insieme, ve ne segnalo uno, scribble o scriblio, non so bene come si legga, e fate dei disegni e potete indovinare. A turno dovete fare il disegnino, vi vengono lasciate tre parole da decidere quale scegliere di fare di disegnare e tutti gli altri devono indovinare. L'altra cosa che potete fare è cucinare, anche se io ci sto andando piano perché comunque tendo poi a mangiarmi tutto quello che cucino, soprattutto se faccio dei dolci. Poi altra cosa che dovete assolutamente fare per passarvi il tempo è allenarvi, perché è importante, perché dato che non riusciamo a muoverci abbastanza, allenarsi in casa è necessario, proprio per la salute, non solo perché, oddio se non ingrassiamo, no, perché fa bene, fa bene al vostro corpo e fa bene alla vostra insomma, sto cercando di ritagliarmi comunque tutti i giorni qualcosa, non riesco tutti i giorni a fare dei circuiti con i pesi perché comunque il corpo mi dice che già i dolori post workout ce li ho, quindi io mi sono allenata lunedì scorso, martedì, mercoledì ho fatto pausa e ho fatto solo del salto della corda, tipo 20 minuti di salto di corda, mercoledì ho rifatto un altro allenamento e sentivo che i glutei mi facevano male, quindi per esempio oggi non so bene cosa fare sinceramente, magari ecco circuiti più a corpo libero invece che utilizzare dei pesi, sicuramente vanno a farmi sentire un pochino di meno i doms ho la possibilità di fare delle passeggiate fuori, il salto con la corda mi sta tornando veramente tanto utile, faccio 20 minuti, un minuto di salto con la corda, 30 secondi di pausa, ovviamente sono arrivata a stare un minuto a saltare la corda, riesco anche un pochino di più nei minuti iniziali, perché piano piano comunque sono riuscita a arrivare a saltarla bene senza affaticarmi troppo a mantenere un ritmo, molti mi dicono, mi inciampo, mi stanco partite con 30 secondi, pausa 30 secondi, poi vedete che piano piano ora parliamo di cosa utilizzare per allenarsi a casa, sapete che sono una persona che si allena a casa da tre anni, con programmi specifici, con una corda, importante quello che vi serve sono dei pesi, cioè non solo corpo libero, pesi ed elastici, se riuscite ovviamente a costruirvi una mini palestrina in casa sicuramente è buono, ma non c'è bisogno di avere dei macchinari vi servono comunque degli strumenti, le kettlebell sono comodissime per fare tantissimi esercizi io ho la kettlebell da 8 kg e una mini kettlebell da 4 kg che vi può essere utile per fare certi esercizi per le braccia, ovviamente ci sono tantissime misure, per esempio il mio ragazzo ha a casa quella di 20 kg, ma è bella pesante, comunque ovviamente consigliate almeno dai 3 kg in su, non prendete i pesetti da 2 kg, da 1 kg, piuttosto utilizzatevi delle bottiglie d'acqua, cioè non sprecate i soldi se dovete prendere pesetti così bassi, 3 kg ora come ora, cioè 2,5 kg, non li sento particolarmente, regato al mio ragazzo, questi manubri ricomponibili sono sicuramente i migliori, non dovete prendere 8 miliardi di manubri, questi qua però sono da 5 kg e ho anche l'altro, ho già il fiatone, altra cosa molto interessante che pochissimi, di cui pochissimi sanno l'esistenza, è il gilet col peso, il gilet col peso lo mettete proprio addosso a modo di gilet e potete fare tantissimi esercizi con del peso in più, arriva fino a 10 kg, questo in questo caso sono anche di più pesanti e potete fare senza avere del peso in mano, magari così non andate a sollecitare troppo le dita delle mani, questo qui ve lo mettete addosso e potete fare squat, affondi, flessioni col peso, trazioni col peso, parlando di elastici vi lascio il link qua sotto in info box degli elastici che uso io da 3 anni, comprati da Amazon e ancora sono perfetti, quello che uso più di tutti ed è quello più resistente è questo qua arancione, per fare tantissimi esercizi per le gambe è davvero perfetto per andare a intensificare anche gli squat, quindi utilizzate la banda elastica più del peso e sicuramente sentite, i elastici qua mi hanno accompagnato nei primissimi anni di allenamenti a casa e sono fondamentali sicuramente per fare tantissimi esercizi per le braccia, quindi assolutamente comunque tutto su internet, poi niente la corda alla quale mi sto apprezzionando particolarmente, mi sta accompagnando in quasi tantissime giornate e mi sto veramente divertendo tanto a saltarla, comunque adesso vi mostro un workout da fare a casa, bello intenso, ma in questo caso non andremo a utilizzare peso perché ci saranno ripetizioni molto più alte, quindi vi stancherete lo stesso, l'unica cosa che andremo a utilizzare saranno gli elastici, bene adesso iniziamo col workout, ve lo mostro e poi ve lo lascio tutto scritto Grazie a tutti 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 Grazie a tutti